Ciao, sono Daniele Amato e oggi presenterò alla Linea Pelle Designer Edition la mia collezione Primavera e Estate 2025. Il titolo della collezione è Trame di Terra ed abbiamo deciso di mixare la pelle liscia insieme a tutti i materiali naturali. Abbiamo utilizzato lini e canvas completamente sostenibili e li abbiamo abbinati a pelle lisce e camosci. Ho scelto di utilizzare varie tipologie di paglia, dal rattan alla palmanana, sempre abbinandole e creando un connubio con la pelle per avere durabilità e comunque mantenere un look naturale. La scelta dei colori si è incentrata principalmente sui colori della natura, quindi i verdi, i beige e i marroni. Questo penso sia uno dei pezzi più interessanti all'interno della collezione perché rappresenta secondo me al cento per cento il concetto di linea pelle. Abbiamo un'eccellenza italiana che è il midollino abbinato alla pelle di alligatore, quindi andiamo a cercare di creare un concetto naturale utilizzando dei materiali che siano anche esotici e ricercati. Il rapporto con linea pelle penso che sia davvero importantissimo perché ti permette di poter fare ricerca e di raccogliere nuove informazioni e nuovi materiali per poter creare collezioni e in più adesso con il progetto di Linea Pelle Designer Edition penso che ci sia davvero la possibilità di raccontarsi come designer e come brand.